Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento con Mattino 6. Iniziamo subito la nostra rassegna stampa partendo dalle prime pagine dei quotidiani regionali abruzzesi. Allora il centro nell'edizione di Pescara che già vedete in apertura titola così Caos e disagi per la riviera chiusa. I lavori tra Viale Muzzi e Via Tassoni pongono degli stop al traffico fino a martedì prossimo. Andiamo a vedere ancora nelle cronache. Alba Adriatica, sisma sfollato, si uccide dopo aver perso tutto. Un 56enne di Castel Sant'Angelo sul Nera in provincia di Macerata titolare di tre bed and breakfast distrutti dal sisma del 2016 è morto in Abruzzo gettandosi dalla finestra dell'appartamento al terzo piano di un palazzo di Alba Adriatica dove viveva sfollato con la moglie. E poi Pescara, addio a Pablo Sachs, l'artista pescarese che amava il mare. Morto in ospedale Paolo Sponsigli in arte Pablo Sachs, pittore, scultore, poeta e musicista. Sponsigli era anche un illustratore scientifico e aveva collaborato assiduamente con il comune per l'allestimento del Museo del Mare. Oggi pomeriggio, l'addio nella sala consigliare. Ancora da Pescara, demenza senile al via il centro per l'assistenza ai malati. Proseguiamo con le altre notizie di carattere regionale. Per il trasporto pubblico, il sindacato censurato sciopera contro la tua e poi la sanità. L'Abruzzo ha il piano delle maxi emergenze. Andiamo a vedere adesso a centro pagina il calcio di Serie B con il Pescara. Salvezza vicina, Pillon dice mi piacerebbe restare. Andiamo a vedere anche di spalla da leggere la Champions League. La Roma batte Liverpool ma il 4-2 non basta per la squadra guidata dall'abruzzese Eusebio Di Francesco. e ancora il personaggio Zicarminuccio, il ritorno di Fraticelli. Nel taglio basso troviamo il Buongiorno Abruzzo, come sempre firmato da Giuliano Di Tanna. Le pippe di ieri sono i brocchi di domani, il titolo del pezzo che si riferisce ai litigi che avvengono a bordo campo nelle partite soprattutto disputate dalle giovanili. Andiamo avanti sul quotidiano Il Centro e proseguiamo con le altre prime pagine delle edizioni provinciali. Questa è la prima pagina di L'Aquila Vezzano sul Mona, il titolo di apertura. Aeroporto, il comune, sfrattala express, arriva all'atto finale, la lunga vicenda della gestione dello scalo di Preturo. Nelle cronache ritroviamo la notizia di Albadriatica con l'imprenditore del Maceratese che si è suicidato e poi ancora dall'Aquila donne aggredite dal vicino al villaggio MAP, un'aggressione a due donne, una più giovane e l'altra ottoagenaria, è stata denunciata alla questura il 30 di aprile nella zona dei MAP i moduli abitativi provvisori della frazione di Pianola. Secondo il racconto delle vittime dell'atto di violenza alla base ci sarebbero futili motivi. E poi andiamo a sul Mona, ricostruzione, 500 pratiche sono bloccate per quanto riguarda sempre il terremoto. Restando alla cronaca, stalker seriale, lancia uova e una donna perseguita il medico con messaggi e telefonate. A centro pagina invece troviamo lo sport, la giornata delle giovanili all'Aquila, carciatori in erba fanno festa, primo maggio del pallone. Ci spostiamo sulla edizione Terramana, in apertura la politica, si ricandidano otto ex assessori, Terramo al voto, altri sette mollano il popolo della famiglia, sesta lista per Giandonato Morra che domani presenterà la sua candidatura. Andiamo ancora nello spazio dedicato alle cronache di spalla, condannato per truffa, finto carabiniere. Il napoletano Paolo De Michele a dicembre dello scorso anno era stato arrestato al termine di una indagine svolta dalla polizia terramana dopo la denuncia di un anziano. L'uomo si era spacciato per maresciallo dei carabinieri e con un raggiro gli aveva sottratto 4.000 euro. Il delitto di alba adriatica cacciati dall'aula per gli insulti all'imputato per quanto riguarda l'omicidio Spinelli. E poi ancora la cronaca, ferito dal trattore è morto, incidente lunedì a Sant'Omero, non ce l'ha fatta l'industriale Giuliese. Andiamo a vedere anche la notizia di centropagina con la fotografia, la festa del podismo in città, Maratonina-Pretuziana, anno corso in 3.000. Andiamo a vedere anche la prima di Chieti-Lanciano-Vasto. In apertura il capoluogo Movida in centro con Malta-Attac. Chieti conto alla rovescia per il grande concerto, la festa si sposta in piazza San Giustino. Andiamo a vedere ancora lo spazio delle cronache. Lanciano, ladri in casa, svuotano la cassaforte, tornano a casa dopo alcuni giorni trascorsi fuori città. e trovano la cassaforte sventrata e ripulita. Spariti gioielli e oggetti di valore per circa 60.000 euro. Festa del lavoro amarissima, dunque per una coppia di pensionati di Lanciano. Sul furto indaga la polizia. Ancora da Chieti, ambulanze, sì all'accordo tra ASL e cooperative. Ancora da Chieti, cumuli di rifiuti sequestrati, Chieti-Scalo, sigiglia, le discariche abusive, ma niente bonifica. Andiamo a centro pagina e torniamo a Lanciano. Lanciano, alunni i campioni delle Olimpiadi delle scuole, premiati i piccoli geni dell'italiano e della matematica. Ora cambiamo testata, ci spostiamo sul messaggero. Andiamo a vedere la prima dell'inserto Abruzzo. Il titolo di apertura è Guerra ai reati ambientali. Pescara, il procuratore Serpi, istituisce un pool specializzato al fianco dei magistrati, un team di carabinieri forestali, intesa con i colleghi abruzzesi per uniformare le indagini. E poi ritroviamo la notizia che è arrivata da Alba Adriatica, morire di terremoto, si uccide imprenditore marchigiano sfollato sulla costa. Scendiamo a centro pagina. Ancora muore subito dopo il parto, indagati i medici dell'Aquila. Il PM Davoglio ordina l'autopsia sul corpo del piccolo nato da una coppia teramana. Andiamo a vedere. Muore poche ore dopo essere venuto alla luce il sostituto procuratore della Repubblica dell'Aquila, Roberta Davoglio, aperto una inchiesta per fare chiarezza sul decesso del piccolo Raffaele, avvenuto il 29 di aprile sugli inevitabili strascichi riportati anche dalla madre dopo il parto, costretta a subire un intervento chirurgico. Iscritti sul registro degli indagati per poter procedere all'autopsia, tutti i medici che si sono occupati della paziente del neonato di Teramo. Ancora da Teramo contro l'imputato, i parenti del Rom ucciso, aggredito dai parenti della vittima Fatim Koldasci, l'albanese di 27 anni, comparso in tribunale a Teramo per l'omicidio del ventenne Rom Manuele Spinelli, processo che, come richiesto, seguirà il rito abbreviato. E poi andiamo a vedere la fotografia di centropagina, l'Abruzzo dei Riti, la processione dei Serpari fa ancora centro e Cocullo vuole il riconoscimento unesco per questa tradizione secolare dell'Abruzzo e di Cocullo. Andiamo nel taglio basso, ci spostiamo a Rigopiano, dopo gli sciacagli arrivano i ladri, ancora sciacagli a Rigopiano, ma stavolta il turismo del macabro non c'entra. Non c'entrano i curiosi che durante i giorni di festa affollano la zona per vedere con i propri occhi quello che resta dell'albergo e più di qualcuno per scattare selfie tra le macerie. Stavolta molto peggio, fermate e denunciate dai carabinieri diretti dal Maggiore Alessandro Albano. La sera del 30 di aprile, due persone che avevano appena rubato ben 130 kg di rame nell'area in cui sono attualmente in corso le operazioni di bonifica. Andiamo a vedere anche di spalla, emergenze, l'Abruzzo ospite, esperti di Nizza e Bataclan. Terremoti, nevicate, incendi, nasce la rete regionale dei soccorsi. Nel frattempo ci sarà questa rete coordinata per i soccorsi nelle grandi emergenze ma ci sarà anche un convegno per capire come affrontare meglio le emergenze ospitando esperti che si sono occupati degli attacchi terroristici di Nizza e di Parigi. Andiamo nel taglio alto per vedere le altre notizie. Pescara, primo maggio, in 20.000, il concertone senza sindacati. E poi chiedi nel piano triennale la trasformazione di Piazza San Giustino. Per il calcio, Pilon, obiettivo doppio, salvezza e rinnovo. Il mister Biancazzurro guarda con fiducia alla sfida di Novara sabato che potrebbe valergli la riconferma anche per la prossima stagione. Pilon che comunque ha fatto bene da quando è arrivato sulla panchina del Pescara. Andiamo sulla città, il quotidiano della provincia di Teramo. Il titolo di apertura riguarda la notizia di Alba Adriatica. Albergatore sfollato si toglie la vita. Si lascia cadere dal balcone della casa di Alba. Nel sismo aveva perso tre bed and breakfast nelle Marche. Andiamo a vedere il centropagina. Il primo maggio l'appuntamento diventa una vetrina per i candidati. Maratona politica per quanto riguarda la maratona pretuziana. E poi nel taglio alto Giulianova, schiacciato dal trattore, muore in rianimazione. L'omicidio di Alba, tensione tra il clan Spinelli e l'assassino. Di spalla il neoassessore di Ignazio illustra la sua strategia per il turismo regionale. Roseto degli Abruzzi, troppe tasse, ecco i manifesti abusivi dei 5 Stelle. Sotto la fotografia alla sinistra si spacca come il PD. Articolo 1 verso d'Alberto, sinistra italiana verso Cavallari. Per quanto riguarda il titolo sulle amministrative e per il rinnovo della carica di sindaco a Teramo. C'è poi la riflessione di Marcello Martelli, gli inquilini del Palazzo, il titolo del pezzo. Nel taglio basso la Serie C, il Teramo spera e fa i conti, ma lo spettro play-out è dietro l'angolo. Lasciamo i quotidiani regionali, adesso apriamo lo spazio dedicato ai titoli nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera. Di Maio a fondo su Salvini e il titolo di apertura del giornale Trattative. Tensioni dei Dem per una lista online con i favorevoli al dialogo. Oggi ci sarà la direzione Evita il voto per i guai finanziari della Lega. La replica pronto a denunciare per quanto riguarda lo scontro Salvini-Di Maio. E poi ancora l'editoriale di Paolo Mieli, i rischi nella regione, l'inquieto maggio in Israele. Andiamo adesso a vedere la notizia di centropagina. A 18 anni era in coma dopo un placcaggio, il padre adesso gioca in cielo. Il sogno infranto di Rebecca morta su un campo da rugby. Andiamo adesso a vedere le altre notizie. Casa Bianca, lo scontro con Mueller e Trump convocato per il Russiagate. Userò i miei poteri. Così il presidente degli Stati Uniti. Andiamo a vedere su Repubblica. Sfida nel Partito Democratico. I big contro Renzi. Oggi la direzione Gentiloni e i ministri con Martina. Il colle è pronto. Al terzo giro di consultazioni. L'ipotesi di un governo di tregua. Di Maio Salvini non vuole il voto. La Lega ha problemi di soldi. E poi ancora andiamo a vedere l'immagine di centropagina. Oggi il mondo difende la stampa libera. L'editore turco vi racconto la mia lotta. Scendiamo nel taglio basso. Il piano 2021-2027. Europa la svolta nel bilancio. Più fondi per aiutare l'Italia nell'accoglienza dei profughi. E poi verso la convocazione di Trump. Rushagate resa dei conti tra Trump e il giudice Mueller. Mi obbliga a intervenire. Passiamo alla stampa. Il titolo di apertura. Governo di tregua contro lo stallo. Oggi la resa dei conti nel PD. Renzi all'attacco. Non saremo la sesta stella dei grillini. Il Quirinale verso nuove consultazioni. Per un esecutivo che resti in carica fino a dicembre. Per approvare la finanziaria. E poi il Rushagate. L'uomo che fa tremare Trump. Il procuratore minaccia. Un mandato di comparizione. Il presidente statunitense. E' un sistema truccato. Andiamo sul sole 24 ore adesso. Crescita in calo all'1,4%. Lavoro al top dal 2008. E questo è il titolo di apertura. Sui dati macroeconomici. Cistat nel primo trimestre. PIL più 0,3%. Contro lo 0,5% del 2017. Decelera anche l'Europa. Però allo 0,4%. Attivi record del 58,3%. Aumentano gli autonomi. Questi dati che riguardano il lavoro. E poi andiamo a vedere i tagli su agricoltura e coesione. Nel bilancio dell'Unione Europea. Fondi legati a disoccupazione e immigrazione. E poi ancora appalti. Autostrade. Via libera dell'Unione Europea. Lavori per 8 miliardi. Concessioni prorogate. Da Aspi e Satap. Quattro anni di gestione in più. Andiamo a vedere adesso la privacy spiraglio del garante. Nessuna moratoria ma un'applicazione pragmatica. Le indicazioni di soro in vista del debutto delle nuove regole europee sulla privacy. A partire dal 25 di maggio. Andiamo a vedere adesso il fatto quotidiano. Il titolo di apertura taglia al sud. Ecco la bozza del bilancio 2021-2027. Mentre a Roma si chiacchiera. L'Unione Europea ci ruba 7 miliardi. Juncker vuole ridurre i fondi destinati al mezzogiorno per finanziare migranti e difesa. E il governo approva. Andiamo a vedere a centropagina. In Medio Oriente parte il giro da Gerusalemme. Abou Mazen giustifica la Shoah. Il leader della NP spara provando a recuperare con il competitore Hamas. Passiamo sul manifesto. Adesso il titolo sulla fotografia e sulla direzione del PD di oggi. I conti con l'oste. Oggi pace armata alla direzione del PD. I renziani si contano, stentano i numeri, avvisano il reggente. No al dialogo con i 5 Stelle. Martina resta ostaggio in cambio di una conferma a tempo. Tra Salvini e Di Maio volano stracci. I 5 Stelle insistono sul voto. La Lega chiede il governo. Questo è il riassunto del quotidiano comunista per quanto riguarda la politica. Scendiamo adesso per parlare di Israele. Olocausto a Abou Mazen nella bufera. La frase antisemita del leader palestinese. La Shoah fu colpa degli ebrei. Andiamo su avvenire. Il titolo di apertura del quotidiano cattolico. Così uccidono la pace. Granate sui cattolici. Abagui muore sacerdote. Colpita anche una moschea. Sono 16 le vittime. Riesprode la violenza in Centraficra. e Boko Haram colpisce in Nigeria. Non hanno 10.000 assassinati dai jihadisti nel continente. Andiamo a vedere anche la fotografia di centropagina. Audienza per il cinquantesimo. L'agenda sia sempre quella dei poveri e partite dalle periferie. Francesco conferma la via ad avvenire. Proseguiamo con il messaggero. Il quotidiano romano apre PD a pezzi. Piano B del Colle. Di Maio attacca la Lega. Prende soldi da Berlusconi. Salvini, Querelo. Voglio l'incarico. Oggi direzione dei Democratici. Renziani rischiano. Consultazione al Quirinale. Governo di Tregua. E poi a centropagina la semifinale di ritorno. Ieri per quanto riguarda la Champions. Zeko e Nainggolan. Cuore e gol. Rezzi in finale. Col Real. La Roma si ferma a un passo dal sogno. Batte 4-2 il Liverpool. Ma non basta. Andiamo a vedere anche Libero. Il titolo di apertura. Senza governo cresce il lavoro. Gli inoccupati tornano ai livelli pre-crisi. Da quando Gentiloni e compagni non possono più prendere decisioni, l'economia dà segni di ripresa. Il fatto che all'orizzonte non si intravede un premier credibile dà fiducia ai mercati anziché deprimerli. In Europa invece l'esecutivo c'è. Infatti sono previsti aumenti di tasse per l'Italia. Questa è la lettura di Libero. Andiamo a vedere a centropagina la sconvolgente confessione di Gina Lollobrigida. Fu un famoso calciatore della Lazio a stuprarmi moltissimi anni fa. Andiamo anche a vedere la verità esclusiva. Terza inchiesta sui genitori del bullo. La mamma di Renzi indagata anche a Cuneo. I PM le contestano il reato di bancarotta fraudolenta per i rapporti tra una ditta fallita nel 2014 e la I26, l'azienda di famiglia della quale l'ex premier è stato per oltre un decennio dirigente inaspettativa. Ecco le email e i bonifici che accusano Laura Bovoli. E poi a centropagina l'Unione Europea mette la nostra sicurezza nelle mani di chi diede via libera ai giadisti in Belgio. Vedete la fotografia. E poi ancora colpo di mano dei sindaci sui figli dei gay. Dopo Torino decine di comuni registrano bimbi nati da uteri in affitto. Pratica proibita in Italia. Andiamo sul mattino di Napoli. PD nel caos, il colle cerca la tregua. Il titolo principale cresce il fronte anti Renzi. L'ex segretario no ha pretesti per rompere. Intanto è scontro tra Di Maio e Salvini. Oggi ci sarà la direzione democratica. Mattarella pronto a un nuovo giro di consultazioni per un governo che cambi la legge elettorale. Andiamo a vedere il focus. La parabola di Luigi in 50 giorni. Tutti gli errori del leader del Movimento 5 Stelle. E poi Sorrentino. Politica? No. La fine di un amore. L'intervista esce. Loro due. Il premio Oscar. Parla per la prima volta del film incentrato sulla vita di Silvio Berlusconi. Il film che è stato diviso in due parti. Iniziano le trattative. L'allarme della campagna. Fondi Unione Europea dopo la Brexit. Il Sud rischia il Max Italia. Abbiamo già visto anche in precedenza. Il secolo XIX. Il quotidiano genovese. Anche qui l'apertura è dedicata alla politica. Verso nuove consultazioni. E il titolo. Salvini a Genova. Meli in carico. Ma il Quirinale pensa un governo di tregua. Democratici. Veleni prima della direzione. Renzi. Non saremo la sesta stella del Movimento 5 Stelle. E poi andiamo a vedere la fotografia. Liguria digitale. Un centro difenderà la regione nata agli Erzelli. La contraerea anti-hacker. Andiamo ancora avanti. Andiamo a vedere i titoli dei principali quotidiani sportivi. partiamo dalla Gazzetta dello Sport che apre con la partita di ieri sera davvero dalle mille emozioni. Champions in presa sfiorata 4 a 2 e Veleni. Roma da applausi. Vedete la foto di Kolarov e De Rossi che ringraziano il pubblico. grande spettacolo anche sugli spalti ieri all'Olimpico di Roma. Roma che abbatte i Reds anche senza un rigore negato, scrive la Gazzetta. L'ira di pallotta è inaccettabile. Subito la VAR o si rischia il ridicolo. Liverpool in finale con il Real Madrid. Qui vedete proprio il rigore negato alla Roma alla mano di Arnold al minuto 63 che ha respinto il tiro di El Sharawi a pochi passi dalla porta. Era certamente rigore. L'arbitro non lo ha visto. Il difensore ha effettuato una vera e propria parata. Andiamo a vedere adesso nel taglio alto il giro d'Italia. Froome pronto a fare la storia. Il ciclista britannico all'attacco dopo aver conquistato il Tour e la Vuelta era venuto il momento di tornare. Posso correre? Non ho fatto nulla di sbagliato. Il via domani da Gerusalemme con la prima cronometro. Di spalla l'assalto di Abramovic. Blues Sarri. Il Chelsea può pagare la clausola. Il Napoli intascherebbe 8 milioni. Lo staff studierebbe già l'inglese. Emery e Giampaolo sono le alternative all'attuale tecnico del Napoli. E poi il mercato. Condore, Sté e Spagna. Il Valencia, Gela, Linder per Cancelo 35 milioni. L'incontro di Roma con Fabricini, Mancini e la Nazionale. Lo Zenit è arrabbiato. E poi nel taglio basso purtroppo le note tristi che riguardano anche lo sport. Non solo la cronaca, il dramma a Ravenna. Rebecca More ha 18 anni giocando a rugby per il basket. Sul time out Venezia, altra festa. Batte Avellino e conquista la Europe Cup. Andiamo sul Corriere dello Sport. Anche qui viene calcata la mano sulla ingiustizia subita dalla Roma. Un'altra ingiustizia. Roma a testa altissima partita. Finisce 4-2. Champions ancora errori arbitrali contro un club italiano. Negati due rigori netti. Monce attacca. Ora bisogna alzare la voce in finale con il Real. Però va il Liverpool. Il commento di Alessandro Vocalelli. Un olimpico da favola e un arbitro da incubo. Nel taglio alto il mercato della Juve. Martial, scatto della Juventus. Bianconeri in corsa per il talento francese dello United che piace molto anche al Chelsea, al Tottenham e al Bayern. Nel taglio basso lo studio. Var, ecco cosa deve cambiare dopo le ultime polemiche. Scopriamo come migliorare l'uso della moviola. Sevi finali di Europa League. Simeone Wenger che sfida a Madrid. Atletico Arsenal parte dal 1-1. Garzia se la gioca a Salzburgo. E poi il lutto nel rugby. Addio a Rebecca. Gioca in cielo. La giovane in coma non ce l'ha fatta l'annuncio straziante di suo padre. Andiamo a vedere anche Tutto Sport. La foto di Sandro Mazzola. Scudetto meritato. Sandro Mazzola spegne le polemiche su Inter-Juva e sul campionato. Orsato ha sbagliato. Spalletti di più. Il Napoli mi piaceva ma il primato dei bianconeri è sacrosanto allegri. Come Elenio Herrera. Questa è la posizione dell'ex bandiera dell'Inter. Poi nel taglio alto Toro Glick si tratta. Le anticipazioni del giornale confermate anche dalla Francia. I Granata ci provano con decisione. Per la Champions immensa Roma. Solo l'arbitro poteva eliminarla. E poi rassicurazioni dal CDA. Milan paga Elliot. Mercato in arrivo solo grandi firme. Intervista al procuratore. Parla Pecoraro. Nessuna inchiesta su Inter-Juventus. Se nel taglio basso troviamo il ciclismo. Domani il Viena Israele. Nibali giro per Froome. Questo per quanto riguarda la prima parte della nostra rassegna stampa. Adesso facciamo un break per la pubblicità. Prima però andiamo a vedere le previsioni del tempo con gli esperti di Meteo 6. E poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa. per aprire le pagine interne dei quotidiani abruzzesi. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte della nostra rassegna stampa. Iniziamo dalla pagina di primo piano del centro. Che riguarda la presentazione del piano per le maxi emergenze. Dunque pronto il piano. Catastrofi. L'Abruzzo si difende. Terremoti valanghi attentati. La sanità regionale è pronta sulla carta. Tra virgolette a rispondere. Ecco la mappa degli ospedali. La vedete qui proprio nella grafica. La rete ospedaliera regionale con i pronto soccorso. Idea di primo livello. Idea di secondo livello. Gli hub di raccolta. Il polo ospedaliero. La sede di staccata di Ortona. E poi gli ospedali di area disagiata. Penne e Castel di Sangro. Questa dunque è la mappa che riguarda appunto il piano per le maxi emergenze. Prima di andare a vedere insieme il servizio completiamo la lettura di questa pagina. Nel taglio basso, sempre per la sanità, malattierare la solidarietà degli abruzzesi. Sabato e domenica decine di punti vendita a Teleton nelle quattro province per aiutare la ricerca. E poi dai morti del Bataclan a quelli di inizio e a sabato a pescare il convegno con gli esperti delle stragi. Ma torniamo sul piano delle emergenze. Andiamo a vedere insieme il servizio. La regione Abruzzo si è dotata del piano regionale delle maxi emergenze sanitarie. Al suo interno, oltre al punto sullo stato del rischio in regione, sismico, chimico industriale, incendi, neve e balanghe, viabilità, vengono definite le strategie di risposta sanitaria in caso di maxi emergenza e maxi evento. RSR Abruzzo è stato nominato il dottor Alberto Albani, direttore del pronto soccorso e medicina d'urgenza dell'ospedale di Pescara. Sarà lui al vertice della catena di comando sanitaria. Il punto principale è quello di aver fatto innanzitutto un'analisi di tutti i rischi della regione Abruzzo. Poi quella di aver messo su una rete che consenta con la massima efficienza e efficacia di rispondere in caso di maxi emergenze. Cioè fondamentalmente quello di aver costruito una rete basata su mezzi comuni a tutti, in senso che ogni ASDA avrà le stesse dotazioni di materiali e la stessa formazione. Così in caso di emergenza tutti sanno cosa fare con gli stessi materiali e gli stessi mezzi. La regione Abruzzo è un po' considerata l'israele d'Italia. Abbiamo avuto il terremoto dell'Aquila, l'acqua di Amatrice, l'evento purtroppo tragico di Rigopiano, l'emergenza neve, abbiamo avuto gli incendi sulla Maiella che sono durati circa 20 giorni. Quindi siamo purtroppo legati a un territorio molto molto fragile e quindi possiamo attenderci di tutto purtroppo su ogni campo. Con il piano la regione istituisce anche il gruppo di coordinamento denominato NOES, Nucleo Organizzativo di Emergenza Sanitaria, abilitato a svolgere il censimento delle dotazioni, la formulazione di proposte tecniche per la formazione degli addetti, la definizione del fabbisogno di presidi e attrezzature uniformi e la comunicazione di rete con gli attori pubblici e privati. I pronti soccorso saranno le strutture organizzative deputate ad effettuare in emergenza urgenza stabilizzazione clinica, procedure diagnostiche, trattamenti terapeutici, ricovero oppure trasferimento urgente alla DEA di livello superiore di cura secondo protocolli concordati per ogni tipo di patologia. È stato previsto inoltre l'acquisto di quattro posti medici avanzati, strutture mobili e modulabili a seconda delle necessità che in pochi minuti possono essere montate nei luoghi dove dovesse verificarsi l'emergenza. Di gran lunga è il tempo in cui non si verificano, e noi auspichiamo non si verifichano mai, eventi tragici di ogni tipo, non soltanto quelli che ci accendono subito la memoria riguardo la neve piuttosto che riguardo il sisma o altre tragedie, ma anche quelle che possono capitare, che sono tra virgolette un pochino più frequenti. Ecco, quei momenti sono relativamente molto più rari rispetto al tempo in cui bisogna utilizzare tutte le nostre regine, le nostre forze per formare costantemente il personale e per avere quel know-how significativo, importante, determinante per salvare le vite umane quando poi qualcosa si verifica. Cambiamo argomento e andiamo sulla pagina Abruzzo del Messaggero. Il rito più bello, serpenti e selfie, Cocullo spinge per l'ok Unesco. Tempo incerto e misure di sicurezza antiterrorismo riducono la folla, ma non il fascino della festa. Il paese sogna il rilancio. Il dossier per il riconoscimento come patrimonio dell'umanità contiene un grande piano di sviluppo. E poi, tua, bus, guasti e corse tagliate. La protesta del sindacato ignorato. Protesta che ritroviamo anche sul Quotidiano Il Centro. Eccola qui, trasporti lo sciopero in Abruzzo. Tua scoppia la protesta del sindacato censurato. censurato, tra virgolette. La sigla autonoma Orsa e il Movimento 5 Stelle manifestano a Pescara davanti alla Regione. Il segretario Giuliani stanno spacchettando l'azienda, ma non ci ricevono. Questa la protesta. Prima di andare a vedere il servizio, completiamo la lettura di questa pagina. Nel taglio basso il doppio incarico. Voto per le regionali. La data si allontana. 5 Stelle e Forza Italia contro D'Alfonso, che oggi sarà a Roma, facendo saltare il Consiglio regionale, che è stato posticipato all'8 maggio. Come detto, invece, torniamo alla protesta di ieri mattina davanti alla Regione in Viale Bovio a Pescara. Andiamo a vedere insieme il servizio. Sono ragioni importanti, se pensiamo che sono problematiche attinenti al lavoro quotidiano dei lavoratori di Tua, quindi problematiche relative ai mezzi aziendali, che sono con delle lacune ormai al limite della sicurezza e del comfort per gli utenti che si appoggiano a Tua per gli spostamenti nella Regione Abruzzo e anche fuori dalla Regione Abruzzo. In più ci sono le infrastrutture aziendali, che anche esse hanno alcune lacune evidenti, specialmente nelle sedi territoriali più lontane dalla Direzione Generale, limiti di sicurezza e soprattutto di adeguatezza a quella che è l'esigenza di una società di trasporto. E poi ci sono le lacune dovute presenti nell'organizzazione del lavoro. Faccio l'esempio dei turni dell'extraurbano, faccio l'esempio dei mancati aggiornamenti su quei turni relativi alle nuove richieste dell'utenza. Pettinari, voi del Movimento 5 Stelle avevate presentato un'interrogazione a risposta orale in Consiglio regionale per lamentare la mancata convocazione ai tavoli di consultazione del Sindaco Torsa. Sì, abbiamo presentato un'interrogazione in Consiglio regionale perché riteniamoci sia stata una disparità di trattamento da parte di Regione Abruzzo che nonostante le decine di lettere del sindacato non li riceve. Questa è una cosa assurda. Poi noi siamo per un servizio pubblico, veramente pubblico, e c'è un grande preoccupazione sul spezzettamento e la privatizzazione del servizio. Questo non lo possiamo concepire. Sono mezzi che continuano ad uscire con le spie rosse accese, mettendo a serio rischio l'incolumità degli utenti, non solo, troppi amministrativi. Abbiamo centinaia di amministrativi in esubero e troppi dirigenti. Qua vanno tagliati i dirigenti e più risorse al personale viaggiante, più tutela per il personale viaggiante. Questa è stata sempre la nostra battaglia e sarà la nostra battaglia. A fianco a tutti, tutti i dipendenti della tua. Andiamo a vedere la pagina Abruzzo della città. Cambiamo argomento ancora una volta. Ripartiamo dai dati per rilanciare il turismo. Il neoassessore Giorgio D'Ignazio traccia la strada per recuperare terreno e dice ci vogliono azioni mirate di marketing. L'Aquila, arrivano i fondi per sistemare le strade chiuse della provincia. E poi la cronaca, doppio colpo, svaliggiate, cassaforte, bancomat, ladri scatenati nel chietino. Portano via un bottino totale di 80 mila euro. Torniamo sul quotidiano, il centro. Nella pagina Abruzzo ritroviamo il tema del turismo, l'industria delle vacanze. Il nostro turismo va rivoluzionato. Il neoassessore D'Ignazio presenta Abruzzo Attrattivo in programma l'8 e il 9 maggio a Pineto e Fara San Martino. Prima di andare a vedere il servizio completiamo la lettura di questa pagina. Febbo di Forza Italia sui fondi europei, la regione in forte ritardo. E poi bando regionale sui tirocini, botteghe di mestiere 450. Le domande presentate. Nel taglio basso ecco le nuove stelle al merito del lavoro. L'Aquila cerimonia di consegna degli attestati nel giorno della festa del 1 maggio. Ma come detto torniamo al turismo e andiamo a vedere la conferenza stampa di ieri del neoassessore regionale Giorgio D'Ignazio. Assessore Abruzzo Attrattivo, ci avviciniamo alla stagione estiva. Tanti i progetti che avete in cantiere, questo in particolare. Guarda, il primo progetto che volevamo fare era quello di ridare un assessorato al turismo che aveva una struttura. Oggi siamo qui, la nostra conferenza è qui perché io volevo dare un'impronta al turismo nuova, un'impronta diversa, un'impronta di un assessorato che lavora a fianco alle amministrazioni, a fianco a tutti gli operatori. Abruzzo Attrattivo è proprio questo. È l'insieme degli operatori, è un workshop che si presenta ai cittadini per capire quali sono tutte le iniziative che si faranno in turismo ecologico. ma insieme agli operatori, a tutti gli attori, per questa sfida che dobbiamo insieme vincere. La regione Abruzzo coordinerà, l'assessorato coordinerà tutte quelle che sono le iniziative che portano il turismo in Abruzzo. Guardate che oggi si presenta una stagione estiva particolare, abbiamo 4 soli punti di non baleabilità rispetto agli 11 dei 126 km della costa Terramana. Abbiamo 8 bandiere blu e insomma vogliamo vincere questa sfida del turismo, riportare la gente al mare, la gente in montagna, a breve avremo il Giro d'Italia, avremo una serie di iniziative internazionali e credo che stiamo dando un segnale. e invitiamo tutti, voglio che questo assessorato sia aperto a tutti coloro che vogliono conoscere, vogliono vedere come si svolge l'attività di un assessore, che cosa si fa in un assessorato e ricevere consigli da tutti coloro che si sentono in condizione di poterne dare. È un assessorato aperto, siamo a disposizione veramente. E oggi è l'inizio, l'Abruzzo attrattivo sarà appunto il primo punto per partire per questa rivoluzione, tra virgolette una rivoluzione pacifica ovviamente, ma che speriamo di avere in breve grandi frutti. Speriamo le pagine di Pescara, partiamo dal messaggero. Serpi dichiara guerra ai reati ambientali, il titolo che apre la pagina, il procuratore della Repubblica Vara, la sua squadra, ha lavoro quattro pulle di sostituti, l'inquinamento in cima alle priorità. All'aggiunto a Narita Mantini il compito di coordinamento e di raccordo tra i PM, nasce anche un team per i reati minori. Pescara si adegua alle direttive del CSM, la definizione degli affari semplici alleggerirà il lavoro di tutti i magistrati. Conducenti nei guai, il titolo di spalla, Smart investe uno scooter con due bimbi come passeggeri. Andiamo nel taglio basso, Pablo Sachs, addio al genio dolce e ribelle, sui social, l'ondata di ricordi degli amici. Proseguiamo con il concertone del primo maggio in 20.000, al concerto di Pescara, Cuzzi, sarà grande estate. Piazza Salotto Gremita per Emischilla e Guepechenio, spazio anche al lavoro, una serata perfetta, dice l'assessore al lavoro per la Notte Bianca a giugno. Il titolo successivo, ora basta morti bianche, premio ai lavoratori ideali. I sindacati uniti in Piazza Italia per discutere di lavoro, in scena il flash mob contro le tragedie. Sempre per tornare al primo maggio, completiamo la lettura delle pagine di Pescara sul messaggero. Anche i ladri di rame a Rigopiano, profanata di nuovo l'area dell'albergo crollato, denunciata una coppia di pescaresi per il furto di 130 kg di metallo. intervento lampo dei carabinieri di Penne che sorvegliano la zona con le telecamere per prevenire gli accessi abusivi. Penne ritrova il teatro che fu distrutto dalle bombe. Il comune impegna parte dei fondi per il risanamento dell'area Belvedere, sarà una struttura di 300 posti. Nel Taglio Basso, Demenza Senile, un centro per 20 famiglie e l'iniziativa presentata ieri a Pescara. Restiamo sempre al capoluogo adriatico, andiamo ad aprire le pagine del centro. La città cantiere, caos e disagi sulla riviera chiusa fino a via Tassoni. I lavori per rifare il manto stradale si sono spostati sul terzo tratto del lungomare, riaperto con un giorno di anticipo il pezzo da via Lemuzzi a via Ragazzi del 99. Nella pagina successiva ritroviamo il Tutto esaurito in città per il concertone del primo maggio e ora si pensa chiaramente agli eventi per l'estate. Andiamo rapidamente avanti. Il comune assistenza gratis per la demenza senile ha aperto un centro per aiutare 20 pazienti e i familiari che li accudiscono e il servizio sperimentale resterà in funzione per tutto l'anno. al via le domande. L'elezione, Odontoiati, Tafuri, presidente. In via Tavos, contro tra auto e scooter, bambini feriti hanno 2 e 10 anni. In via Lago di Capestrano, aggressioni in strada, in ospedale un 47enne. Andiamo ancora avanti. Lutto in città, abbiamo già visto addio a Pablo Sachs, l'artista psichedelico che amava il mare. E poi, incontinenza maschile, ecco le nuove terapie. Domani a Pescara, il primo corso del 2018 della società italiana di urodinamica. Si parlerà delle ultime novità in tema di riabilitazione e interventi chirurgici. E poi, idrocarburi nel fiume, denuncia da parte degli ambientalisti della SOA in particolare. E poi, nel taglio basso, Pescara Bari, vecchie glorie in campo appena la partita inserita nel calendario degli eventi per il centunesimo giro d'Italia. Nelle pagine di Montesirvano, i servizi alla cittadinanza. Il Parco della Libertà in gestione al Dog Village sarà l'associazione per la tutela dei cani randaggi a curare l'area verde di Via Moro, inaugurazione con la festa dei Marco e la partecipazione di numerosi cittadini. Nel taglio basso, orti urbani, si raccolgono i primi frutti. In Via Don si è costituito un comitato degli assegnatari. Nella pagina successiva, passeggiate invasa dall'erbacea, aree abbandonata al colle, il mancato sfalcio crea problemi. Spoltore servizi, il sindaco incontra i dipendenti. Ci sono nuovi incarichi in arrivo. Andiamo ancora avanti. Nella pagina che riguarda Francavilla, al Via, fiori e fragole, prodotti tipici in mostra. Tutto pronto per la manifestazione che si svolgerà sul lungomare sud della città. Nella pagina della Val Pescara, schiaffi all'arbitro cacciato dalla squadra. Manopello, giocatore ventenne della Torre Calcio, reagisce con violenza e l'espulsione. Il presidente dell'ASD chiede scusa. Andiamo a centro pagina. Il sindaco Saia cede il passo. Il collega ad Ascanio punta al bis. Selezioni di giugno, San Valentino e Roccamorice al voto. Andiamo ancora avanti. Passiamo alle pagine di Chieti. La Movida sbarca in centro. La Maxifesta invade Piazza San Giustino. Conto alla rovescia per Malta al Tac. Il 12 giugno, concertone con sette gruppi. Scusate, il 12 maggio, mostre d'arte e stand con i prodotti tipici. Non piove ma salta il concerto allo scalo. La manifestazione del primo maggio annullata all'ultimo minuto. Marzoli del PD è stata una figuraccia. Andiamo ancora avanti. Furto a Lanciano. Entrano in casa e svuotano la cassaforte. I proprietari, due pensionati, erano fuori città indisturbati. I ladri portano via Rolex, oro e gioielli per circa 60 mila euro. E poi ancora Bancomat esplose. Il bottino è 30 mila euro. Colpo del primo maggio a Mozzagronia. In quattro con caschi da lavoro fanno saltare in area l'apparecchio. Nel taglio basso, accordo asle volontari. Le ambulanze ripartono. Salvi i servizi del 118. Trasporto paziente dializzati in provincia di Chieti. Nuova convenzione di un anno. Andiamo nelle pagine della provincia. Tutto pronto a Ortona per la festa del perdono. E poi ancora a Bazzia i lavori per le infiltrazioni e le barriere. Siamo chiaramente a Fossacesia per quanto riguarda la Bazzia di San Giovanni in Venere. Andiamo a vedere le pagine di Chieti anche sul messaggero. Eccole qui. Grandi opere. Ripartiamo dal capoluogo. Si punta su Piazza San Giustino. Stanziati 36 milioni per interventi in maniera di mobilità e accessibilità. E certo, ai piedi della cattedrale spariranno i parcheggi per le auto. E ancora, Trevisan lascia il Chieti. Cedo la squadra gratis, questo l'annuncio dopo anche i tafferugli che ci sono stati nel dopo partita di domenica. Andiamo nel taglio basso. Comandante dei vigili rimosso. Troppo amico dell'ex sindaco. Siamo a San Giovanni Tiatino. E poi l'evento flop primo maggio invece attesa per Malta Attac. Nella pagina della provincia, Bancomat e Cassaforte, doppio furto. Abbiamo visto i colpi nell'area frentana che torna ancora sulle pagine di cronaca per questi motivi. Pilkington incubo licenziamento e cresce l'allarme per gli esuberi. Incontro sindacale ad alta tensione, nubi minacciose per il futuro, a rischio il posto di 800 unità. Andiamo nel taglio basso da San Salvo, scuola dell'infanzia chiusa per Topi. A Ortona, San Tommaso, la dama è una prof per quanto riguarda il perdono. Andiamo ad aprire adesso le pagine di Teramo. Andiamo se riusciamo a visualizzare la prima pagina del messaggero. Eccola qui, forse ci siamo. Eccola qui. Allora, si parte con la sanità. Specializzandi al Mazzini, in arrivo i rinforzi alla ASL. Convenzione con l'Università dell'Aquila per avere nuovi medici a disposizione. L'accreditamento avrà durata di due anni e la struttura metterà a disposizione i tutor. E poi, alta tensione in tribunale. Uccise un 22enne Rom, aggredito in tribunale. Siamo all'omicidio Spinelli. Sarà giudicato con il rito abbreviato Fatim Coldasci. Ci sono stati momenti di tensione tra l'assassino e i familiari. E poi, la direttrice Quaglione, tornando al Mazzini, li informiamo delle nostre strutture e avremo un supporto quotidiano in questo periodo di cadenza del personale per quanto riguarda l'ASL. Passiamo alla pagina successiva, quella della provincia. Morto l'imprenditore re dell'acciaio, Fortunato De Luca, era rimasto ferito alla guida del trattore, espirato all'alba del primo maggio all'ospedale di Teramo. Camera ardente allestita nell'obitorio delle Mazzini. Funerali domani mattina alle 10 nella chiesa dei Benedettini. Sempre da Giulia Nova, banda degli incappucciati in azione. Terza volta sullo stesso distributore. E poi, nel taglio basso, sfollato per il sisma, si toglie la vita. Oggi il funerale era angosciato l'imprenditore di origini marchigiane. La manifestazione Giulia, troppe falsità, l'accusa della mamma su questo caso. Meri Coci, ieri, alla vita indiretta, sul Rai 1, ha detto, mi fido della giustizia. Andiamo a vedere sul quotidiano Il Centro, le pagine di Teramo. Verso le elezioni comunali a Teramo ci riprovano 8 ex assessori di Brucchi, ma altri 7 non saranno in corsa. Gli aspiranti sindaci scendono ufficialmente a 7. Simona Lupi, infatti, sosterrà Morra. I candidati si occupino della centrale Enel e richiamo del presidente del comitato CONA. Nel taglio basso, oggi al via il processo al rettore, doppio incarico, prima udienza con rito immediato, chiesto da D'Amico. Non salterà per lo sciopero nazionale proclamato dalle camere penali. Gli avvocati per questo caso si asterranno. Andiamo avanti, Silvi, verso il voto. Quattro candidati a sindaco e dieci liste. Si completa il quadro elettorale con del vecchio che scioglie la riserva e si aggiunge a Comignani, a Stolfi e a Scordella. E qui li vedete anche nella fotografia. Pineto si sposta il mercato del sabato. Commercianti in allarme. Andiamo sulla città per le altre notizie dal Terramano. La religione, una lettera ai giovani in vista del sinodo. Il vescovo Lorenzo Leuzzi anticipa alcuni contenuti della Veglia Mariana del 12 maggio a San Gabriele. E poi è stata anche la Maratona dei candidati, l'edizione numero 39, trasformata in una ottima vetrina di visibilità per le prossime elezioni amministrative per quanto riguarda la Maratonina Pretuziana. I vincitori, vittoria del Keniano Kanda, Rotto vince tra le donne, Uniti è ancora il gruppo più nutrito in Terramna, vince tra le palestre. Andiamo alla politica. Anche la sinistra si spacca tra Dalberto e Cavallari. Alessiani di articolo 1 verso Dalberto, Ciccantelli di sì e Giannella di prospettiva comune per Cavallari. Intanto domani Morra presenta la sua candidatura con i sostenitori. Andiamo adesso a vedere gli alleati civici. Ultimi possibili tentativi di alleanza tra i civici. La lista di rabbuffo vicina all'abbandono della corsa confronto sui temi tra Covelli e Di Dalmazio. Andiamo ancora avanti. Quattro anni al napoletano truffatore di anziani. Siamo alla cronaca. Casi è spacciato per carabiniere avvocato spillando 4.000 euro con la truffa della figlia nei guai con la giustizia. Il dramma. Imprenditore sfollato dal sisma si toglie la vita. Il marchigiano Massimo Dell'Orso risiedeva ad Alba Adriatica dopo aver perso i suoi tre bed and breakfast. Andiamo ancora avanti. Rito abbreviato per l'omicidio Spinelli. I familiari provano ad aggredire l'assassino durante l'udienza preliminare. Emanuele Spinelli è stato ucciso a coltellate dal 28enne Fatim Koldasci davanti al pub Wolf di Alba Adriatica. Nella pagina successiva morto l'imprenditore travolto dal trattore domani nella chiesa dei Benedettini. L'ultimo saluto a Fortunato De Luca. Prima di passare allo sport della città torniamo sul quotidiano Il Cento. Andiamo ad aprire le pagine dell'Aquila. Aeroporto di Preturo atto finale. Il comune dallo sfratto alla Express. De Matteis di Fratelli d'Italia. La società di gestione non ha ancora risposto al nostro ultimatum. Dobbiamo riscuotere 3,6 milioni di euro. Nel taglio basso due casi di stalking all'Aquila e Capistrello. Denunciato una donna che perseguitava un medico e nella marsica rispunta il lanciatore di uova. Andiamo sul messaggero per vedere le pagine dell'Aquila. Neonato morto dopo il parto. Equip medica sotto inchiesta atto necessario da parte dei magistrati per svolgere tutti gli accertamenti tecnici. Il piccolo è venuto alla luce prematura e deceduto dopo il taglio cesareo in ospedale. La famiglia si è rivolta ai carabinieri. Nel mirino anche la successiva operazione chirurgica ai danni della madre. Nella pagina successiva Ater, il giallo dei 150 milioni mai spesi, prosegue il botte e risposta sulle case non ricostruite. Il consigliere PD Pietrucci ha convocato un vertice domani corti dal 2009 al 2015. La progettazione e poi il silenzio. Intanto sale a 12 il numero delle richieste di risarcimento. Nella successiva pagina di Avezzano sul Mona, niente allaccio Enel, niente assunzioni. La clamorosa denuncia di un imprenditore agricolo del Fucino. Il disservizio blocca la possibilità di assumere 20 addetti. Eppure è tutto pronto per far partire una delle aziende pataticole più grandi dell'intero comprensorio. E poi ancora prestiti a strozzo, arrestato l'ex pugile De Silva. Nel taglio basso da sul Mona, gli architetti ferme 500 pratiche per la ricostruzione. Restiamo al messaggero, andiamo ad aprire le pagine dello Sport. Nell'apertura dell'Abruzzo Sport troviamo il Pescara. Pillon un punto per ricominciare. Salvezza e rinnovo a portata di mano per il mister che è il favore della tifoseria. Alla guida del Pescara, tre risultati utili consecutivi. Porta inviolata da 180 minuti. Per il Futsal, Acquessapone stasera contro Pesaro, via alla corsa Scudetto. La squadra di Perez arriva alla roulette da seconda della classe al termine del regular season. Troviamo il basket nel taglio basso. Roseto con la Virtus conta solo la vittoria. Oggi alle 21 gara 2 play out per cercare di agguantare la bella di domenica. Nella pagina successiva troviamo il Teramo in primo piano. Teramo, devi solo vincere. Però sciolto il Sant'Arcangelo, nessuno ha debito San Domenico. Oggi ricorso sulla squalifica. Mister Zichella, bel rapporto con il gruppo, a casa pagato, giusto ricompensare la società. Per quanto riguarda l'eccellenza, paterno spoltore sarà la finale play off. Andiamo sul quotidiano il centro, a vedere le pagine dello sport. Ripartiamo dalla serie B. Salvezza vicina, Pilon e il ritmo play off. Mi piacerebbe restare. Il Pescara col nuovo allenatore ha conquistato 9 punti in 6 gare. Verso la gara di Novara, basta un punto per la festa? Per Rotta non ci sta e chiede la vittoria. Sabato in Piemonte un pareggio potrebbe garantire la salvezza matematica. Pilon vorrebbe evitare il turnover, stangata Maceda, 4 turni di squalifica. Andiamo avanti. Siamo alla serie C, a 90 minuti dal termine. Domenica la Reggiana al Bonolis, partita alle 17.30. Teramo le combinazioni per scongiurare i play off. E poi l'eccellenza con i play off. Se vinco torno a piedi, Ronci mantiene la promessa. Chieti ha eliminato, il tecnico dello spoltore festeggia a modo suo. Intanto il patron Teatino Trevisan lascia, dopo la contestazione della tifoseria, domenica la finale a Pineto. Troviamo anche la maratonina preduziana a Dugna al terzo posto. A Teramo, primi cheniani Kenda e Chisorio. La Rotto vince tra le donne davanti alla Sabatini. Nella pagina successiva, il ciclismo. Giro d'Italia, le ambizioni degli abruzzesi. Ciccone ci riprova, l'obiettivo è vincere qualche tappa. E poi Fonsi Bis voglio mettermi in mostra. E magari a Imola, chissà. E domani intanto c'è il Via a Gerusalemme. Inizia il tutti contro Frum. Giro che passerà, come sapete, anche in Abruzzo. Restiamo al ciclismo. Le gare in Regione, Montrone, Cecchini, Stelle di Casoli. Gli esordienti si danno battaglia nel Memorial. Padre Giuseppe incontrato a Guarenna, bene anche Piano e Colanero. E poi gli altri sport, sempre per il ciclismo. Juniores, Paravano, terzo a Maloppello, dietro a Umbria e Marabini. Il Cross Country, la festa dei Focarelli ad Arischia. Il figlio batte il papà sul traguardo. Del 26 si correrà a Francavilla. Challenge da Abruzzo a Lievice. Garofoli davanti a Russo. Nella successiva pagina, e siamo in chiusura, basket di A2, gara 2 del play-out di Paolo Antonio. Il pubblico di Roseto ci trascinerà. Stasera alle 21 al Palamaggetti la rivincita contro Roma. Il coach a Napoli-Piacenza non penso, voglio vincere. Per quanto riguarda la Serie B, amatori e campi alla riscossa per poter andare alla bella. Il trofeo delle province, festa di talenti e colori per il volley femminile. Chiudiamo con lo sport sulla città. Ripartiamo dalla Serie C e dal Teramo. Teramo, cosa serve per salvarsi già domenica? Un'improvabile combinazione di risultati potrebbe consegnare la permanenza in categoria, senza passare dai play-out. 90 minuti dal termine. Ci sono vari incastri. Il Teramo spera, ma lo spetto play-out col Vicenza è dietro l'angolo. Nella pagina successiva i Lions Teramo, sconfitta fatale, addio alla A1. E poi troviamo anche nel taglio basso gli sport estivi. Alba e Giulianova, protagoniste del Beach Volley Under 21. È davvero tutto per la nostra rassegna stampa. Io vi ringrazio per averci seguito anche questa mattina. Mattino 6 torna domani mattina alle ore 8. La nostra informazione invece con il TG6 alle 14, alle 19 e alle 23. Grazie ancora e buona giornata. Grazie ancora e buona giornata. Grazie ancora e buona giornata.